Buonasera, mi sente? Sì, la sento, buonasera a voi. Allora, un suo primo giudizio sulla riforma, ci ricordava Luisa Todini adesso, ce l'ha ricordato naturalmente anche il Presidente Napolitano, che la riforma non è solo articolo 18, quindi un suo primo giudizio complessivo su questa riforma che tocca tanti settori del mercato del lavoro. Sì, dunque, la riforma ha alcuni pregi e parecchi difetti. Il pregio principale è l'idea che il Governo procederà anche senza il consenso delle parti sociali, ossia si sancisce il principio che una parte sociale, qualunque essa sia, non può porre veti. Questo è un punto importante. Il secondo punto importante è che la riforma cerca di toccare tutti gli aspetti, la flessibilità in entrata, in uscita, il riordino degli ammortizzatori e il dualismo precari-non precari. Tuttavia, volendo toccare tutti questi temi, ha rischiato e rischia e rischierà sempre di più di essere una riforma che cambi tutto per non cambiare nulla. Quindi questo è il vero rischio perché le riforme sono piccole in realtà, non sono così importanti e a volte con effetti paradossali. Professor Garibaldi, la cosa naturalmente che ha fatto per discutere l'articolo 18, le faccio una domanda in stile FIOM. Con questa riforma dell'articolo 18, il tempo indeterminato, quanto esiste ancora come forma di rapporto tra aziende e lavoratori? Guardi, il tempo indeterminato esisterà certamente dopo la riforma. Quello che certamente aumenta è la complessità della procedura di licenziamento. Non è ovvio affatto che sarà più facile licenziare. Quello che è certo è che è molto più complicato perché si chiederà al giudice oggi non solo di stabilire se un licenziamento è legittimo o illegittimo, ma se il licenziamento è stato discriminatorio oppure per motivi economici e per motivi invece di diverso tipo. Questo perché a seconda del tipo di licenziamento ci sarà un indennizzo diverso. Quindi capire cosa saranno gli effetti si entra in una specie di roulette da cui è molto difficile capire ex ante quello che succederà. A me sembra che gli unici veri vincitori sono gli avvocati delle cause di lavoro. Che diamine vuol dire il licenziamento per motivi economici con giusto o senza giusta causa, ad esempio? Come si fa a capire quando i sindacati dicono potrebbero esserci licenziamenti indiscriminati e un ricorso appunto indiscriminato al licenziamento per motivi economici? Hanno ragione, hanno torto dal suo punto di vista. Com'è la situazione? Allora, innanzitutto sia ben chiaro che il licenziamento discriminatorio è oggi considerato illegittimo e causa di reintegro anche per le piccole imprese. Se io licenzio per motivi razziali o licenzio una donna in gravidanza questa viene reintegrata. Al di là del licenziamento discriminatorio cerchiamo di capire la differenza che è molto complicata tra licenziamento economico e licenziamento disciplinare perché questo diventerà fondamentale perché a seconda del tipo di licenziamento se economico o disciplinare in un caso ci sarà diritto o alla reintegra o a un indennizzo in un altro caso solo indennizzo ma in realtà quando uno viene licenziato è sempre licenziato perché da un lato lavora poco da un altro lato perché l'impresa non va tanto bene il secondo è un motivo economico il primo è un motivo disciplinare altrimenti l'impresa non avrebbe licenziato è verissimo che le imprese non vivono per licenziare ma andare e distinguere quale due tipi di licenziamento è effettivamente caso per caso rilevante è assai complicato per non dire impossibile il fatto che come dicono a ogni peso spinto gli industriali eravamo l'unico posto del mondo dove c'era l'articolo 18 fatto così è vero? Lei è un esperto naturalmente in diritto del lavoro e se è così perché tante proteste? Indubbiamente l'idea che il licenziamento sia legato all'area integra è vero che è un'anomalia italiana negli altri paesi un'istituzione simile non esiste quasi a parte i casi discriminatori che ovviamente esistono in tutti i paesi detto ciò non era necessario decidendo di cambiarlo di aumentare la complessità del sistema quindi è vero che riduciamo in parte l'anomalia italiana ma aumentiamo la complessità probabilmente si potevano scegliere altri strumenti altri canali che sono le altre parti della riforma senza suscitare tutto questo confusione pericolo e anche rischiamo tensione sociale Professor Garibaldi sappiamo che una delle contropartite forti fortissime per la revisione dell'articolo 18 è quella di eliminare la flessibilità cattiva e fasulla con queste norme secondo lei quanto sono tutelati i giovani soprattutto che entrano con contratti temporanei o comunque precari ma indubbiamente il contratto precario il contratto diciamo parasubordinato costerà di più perché vi è un aumento dei contributi e questo indubbiamente potrebbe determinare un incentivo per le imprese ad assumere a tempo indeterminato attraverso forme di inserimento quali l'apprendistato bisogna stare molto attenti però perché l'aumento dei contributi nei contratti a progetto che hanno un salario molto flessibile per loro natura può facilmente essere trasferito al lavoratore ossia pagato dal lavoratore senza alcun impatto sul costo del lavoro ossia essere irrilevante riguardo al al contratto di inserimento attraverso l'apprendistato questo è importante per i giovani ha questo limite che si applica soltanto ai giovani fino a 29 anni cosa succede alle persone con età superiore quando l'età media dei contratti precari è 35 anni e poi stiamo attenti che alla fine del periodo formativo il datore di lavoro può interrompere il rapporto di lavoro di apprendistato senza alcun indennizzo questo è un problema che possiamo rischiare di affrontare tra qualche anno di apprendistato Grazie a tutti.